Sì, dal Consiglio Comunale al progetto per Villa Marina. È passata infatti la delibera di acquisizione da parte del Comune di Pesaro della parte Lato Monte del complesso di Villa Marina, per un costo complessivo di 1 milione e 320 mila euro. Il progetto, come già anticipato nelle scorse settimane, prevede l'acquisto e l'affidamento gestionale dell'area sportiva del complesso, insieme alla realizzazione del parcheggio gratuito da 200 posti, già sperimentato la scorsa estate, e accompagnata dal ritorno dell'area pedonale in Viale Trieste. Con questa delibera l'amministrazione comunale si mette nelle condizioni di poter fare un'operazione virtuosa sotto due punti di vista. Il primo è quello di poter ridestinare quelle aree a una funzionalità che è nell'interesse di tutta la comunità. Mi riferisco in particolar modo all'area che verrà destinata alla sosta, quindi un'area importante che potrebbe potenzialmente dare la possibilità di sostare a più di 200 vetture. E questo ci consentirà anche di poter intraprendere delle scelte coraggiose che l'anno scorso abbiamo sperimentato, che possono essere sicuramente migliorate, riviste, integrate, ma che ci consentiranno di poter rendere il lungomare sempre più misura d'uomo. L'ufficio Sport sta già lavorando alla costruzione di un bando per l'assegnazione di quella che è l'area sportiva, quindi l'area che include di fatto già una palestra degli impianti sportivi, affinché questa possa tornare ad essere un luogo importante, centrale, da un punto di vista anche della vivacità, del dinamismo e dell'attività della città. Tra i voti favorevoli al progetto anche quelli dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Anche il Movimento 5 Stelle è favorevole a questa delibera perché ci vediamo molto di più che l'acquisizione di un parchetto, ci vediamo un progetto dietro, un progetto importante che abbiamo sostenuto e che continuiamo a sostenere, che è quello della pedonalizzazione di Valle Trieste, altro che consumo di suolo, altro che sfruttamento dell'automobile. Qui si va nella direzione opposta, qui si sta cominciando ad avere una visione organica di quello che significa veramente mobilità sostenibile. Astenuti invece i gruppi di centrodestra. Il consigliere della Lega Dario Andreolli, valutando positivamente l'acquisto dell'area, ha espresso criticità sulle destinazioni d'uso sia per la zona parcheggio che per quella sportiva. Mentre il consigliere di Forza Italia Michele Redaelli ha sottolineato la volontà di condividere le finalità del progetto con il quartiere di riferimento. In particolare per quanto riguarda quella di vita parcheggio, relazionandola anche in combinazione con l'idea, la possibilità della pedonalizzazione di Viale Trieste, lo scorso anno ci sono state parecchie criticità evidenziate soprattutto dal consiglio di quartiere di riferimento. Per questo motivo ci tengo a richiedere, a ribadire anche un passaggio in consiglio di quartiere prima della definizione definitiva di questi utilizzi. A prendere parola durante la seduta per intervenire in merito ai dubbi sollevati è stato anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Non abbiamo deciso di fare l'area pedonale senza porci il problema della mobilità e della sosta in quell'area. La scelta di acquistare l'area a Monte di Viale Trieste di Villa Marina per farci un parcheggio definitivo è una scelta strategica perché non dice facciamo l'area pedonale e ce ne freghiamo di coloro che non trovano il posto per venire al mare. Visto che comunque acquistiamo e realizziamo un parcheggio, quindi spendiamo, ci siamo posti anche di recuperare, proprio perché abbiamo un bilancio virtuoso e deve rimanere tale, di recuperare la parte di mutuo che andiamo a pagare ogni anno per l'acquisto, per la realizzazione del parcheggio, mettendo a bando, ed è quello che avverrà nei prossimi giorni, l'area sportiva. Grazie.